Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Efrem e questo è Garage19. Terzo episodio riguardo la modifica alla Suzuki Gran Vitara in cui siamo andati ad effettuare un bodylift andando a montare dei rialzi di 7 cm. Nei due scorsi video siamo andati a vedere tutto ciò che c'era da smontare prima di distaccare carrozzeria e telaio, cosa che faremo oggi. Ossia andremo appunto ad applicare i tamponi di rialzo tra carrozzeria e telaio. Ovviamente dovremmo andare ad effettuare qualche modifica sui prigionieri che ci sono già presenti, sostanzialmente allungarli tramite dei dadi, delle barre filettate in modo da poter inserire i tamponi stessi. Infatti ci armeremo di saldatrice, flessibile, spazzola e così via. Vedremo tutto a breve. Ad ogni modo iniziamo subito, ma prima come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ed eccoci qua al di sotto dell'auto. Con una chiave da 14 mm svitiamo tutti i punti di giunzione tra telaio e carrozzeria. Ricordo che ce ne sono per ogni lato due centrali, uno poco dietro della ruota anteriore e uno poco avanti della ruota posteriore. Questi sono dei prigionieri ancorati grazie a dei dadi. Altri due, uno da un lato e uno dall'altro, si trovano nella parte posteriore. Sono sempre dei dadi che con una chiave da 14 mm possiamo svitare. Per quanto riguarda invece la parte anteriore, ci sono gli ultimi due, uno da un lato e uno dall'altro. Questi non sono dei prigionieri bloccati da dei dadi, ma sono proprio dei bulloni passanti la carrozzeria e avvitati nel telaio. E allora svitati tutti quanti, andiamo a appoggiare i bracci del ponte sollevatore, ovviamente alla carrozzeria. Perché questa la solleveremo, mentre il telaio lo lasciamo a terra. E' meglio se poniamo dei blocchi sia avanti che dietro ciascuna ruota, in modo che rimanga in questa posizione e non si sposti di tanto. Eccoci pronti a distaccare la carrozzeria dal telaio. Recuperiamo chiaramente i tamponi in gomma che ci serviranno successivamente. E così possiamo sollevare la carrozzeria. Mi raccomando facciamo questa operazione con calma, piano piano. Alziamo sempre di pochi centimetri e controlliamo per bene dappertutto che non ci siamo dimenticati di qualche cavo attaccato, di qualche tubo, qualche manicotto o altro. E quindi per non rischiare che strapperemo via qualcosa o romperemo o faremo danni. Purtroppo ho perso il videoclip in cui facevo vedere l'intera auto con telaio e carrozzeria distaccata, ma vi lascio una sequenza di foto. E allora siamo pronti a qualche piccola modifica per poter installare i tamponi. Questi qui sono i rialzi e queste sono le prolunghe per i prigionieri. In pratica è chiaro, per poter inserire i tamponi bisogna andare ad allungare i prigionieri sull'auto. Per farlo utilizziamo dei dadi lunghi di cui un lato lo avviteremo al prigioniero dell'auto. Dall'altro lato invece avviteremo queste barrette filettate che passeranno all'interno del telaio e bloccheremo con dado e contro dado. Come prima cosa andiamo a bloccare la nostra piccola barra filettata all'interno del dado. Quindi utilizziamo una saldatrice per dare un paio di punti di saldatura. E' chiaro, una volta saldato andiamo a pulire con una spazzola. Successivamente, siccome il filetto del dado e il filetto del prigioniero sull'auto non sono uguali, le due strade da fare sono o andare a rifilettare utilizzando una filiera femmina il prigioniero sull'auto, ma meglio invece andare a filettare con una filiera maschio il dado e quindi rendere dello stesso filetto del prigioniero sull'auto. Per quanto riguarda invece gli spessori, bisogna andare ad allargare il foro all'interno per fare entrare il dado che è leggermente più grosso del foro. Possiamo utilizzare comodamente un trapano a colonne oppure una fresa. Spostandoci sull'auto andiamo a modificare i prigionieri. Sostanzialmente li tagliamo leggermente in modo che avvitando il dado questo entri tutto e arrivi fino alla base del prigioniero, in modo che si appoggi e faccia ben presa. Quindi una volta avvitato lo procediamo a dare un punto di saldatura per bloccare il tutto. Ovviamente eseguiamo questa operazione per tutti i sei prigionieri, perché ricordo ce ne sono quattro laterali, due da un lato e due dall'altro, e due posteriori, uno a destra e uno a sinistra, mentre per quelli anteriori non abbiamo un prigioniero ma un bullone. Ultima operazione da effettuare sui prigionieri è applicare dello zinco o acciaio inox spray, in modo che non si arrugginisca con il tempo. Per quanto riguarda invece la parte anteriore, dobbiamo innanzitutto andare ad allargare i due fori presenti sul telaio, in modo da far passare una barra filettata abbastanza grossa. E allora la andiamo a preparare. In pratica da un lato inseriamo un dado e lo blocchiamo, mettendo un paio di punti di saldatura e diventando così un bullone a tutti gli effetti con una testa esagonale. E' chiaro, dopo la saldatura come sempre lo andiamo a pulire utilizzando una smerigliatrice e una spazzola. A presto! A presto! A presto! ecco qui questo è il risultato possiamo allora iniziare ad inserire il tutto ricordandoci di posizionare tutti i tamponi in gomma oltre ai rialzi in poliuretano chiaro facciamo questa cosa sia da un lato che dall'altro allo stesso modo nella parte posteriore quindi inseriamo sia il rialzo in poliuretano ma anche il tamponcino in gomma che si intravedono appoggiati sul paraurti è chiaro stessa cosa anche per i quattro laterali posizioniamo i rialzi in poliuretano e ugualmente i tamponi in gomma per la parte anteriore allora mettiamo questa barra filettata chiaro successivamente andrà tagliata ricordiamoci di posizionare questo tampone in gomma puntati tutti i rialzi tutti i tamponi siamo pronti ad abbassare la carrozzeria seguiamo questa operazione così come quando l'abbiamo alzata con calma piano piano non abbiamo fretta volendo possiamo anche muovere poco poco il telaio per farlo combaciare al meglio con la carrozzeria e mi raccomando sempre stiamo attenti che qualcosa non vada ad urtare a rompersi a schiacciarsi e così via quindi prendiamoci tutto il tempo necessario per ricollegare carrozzeria e telaio ora abbassato completamente la carrozzeria adesso è tutto appoggiato a terra blocchiamo i nostri prigionieri utilizzando prima un dato e successivamente gli avvitiamo un contro dato per sicurezza tutto questo per i sei prigionieri mentre per la parte anteriore i due bulloni lunghi come vedete sono passanti e li blocchiamo dalla parte di sotto con dato e contro dato ultima operazione da eseguire per concludere al meglio il nostro lavoro è tagliare le eccedenze di barre filettate quindi con un flessibile andiamo a tagliarle bene anche per oggi è tutto non vi faccio vedere il lavoro finale perché è chiaro ancora la strada è lunga dovremo andare ad apportare diverse modifiche all'auto stessa ovvero oltre a rimontare tutto quello che abbiamo smontato bisogna anche allungare l'asta del piantone dello sterzo così come le leve del cambio e del riduttore allungare i tubi dei freni tubi della frizione quindi tutti i tubi idraulici modificare oltre al paraurti di dietro per poterlo rimontare anche quello anteriore che bisogna creare una griglia dal momento che il radiatore adesso è coperto dal paraurti ed è chiaro non va bene così perché c'è bisogno che entri aria ad ogni modo vedremo tutto nei prossimi video mi raccomando come sempre like iscriviti al canale attiva la campanellina per non perdere l'uscita ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto perché verrà riconosciuto una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescervi il canale supportandolo ti ricordo inoltre che sono presente anche su instagram e tiktok passa a dare un'occhiata trovi sempre qui sotto i link ai profili grazie e alla prossima